Ci sono due carte, questa è quella dell'euro e questa è la carta igienica. Secondo me oggi in Europa è più importante questo di questo con il vostro lavoro, perché voi fate andare l'Europa al macero, non state facendo quello che interessa al popolo e quindi lei sarebbe il primo che si dovrebbe dimettere, dovrebbe dimettersi e chiedere scusa alla Grecia. Ma lei sa quanto costa un litro di latte, un chilo di pane, un litro di benzina? Perché lei parla sempre di grandi cose, di grandi soldi e in mezzo alle banche, alle multinazionali, vive con loro da sempre, ma la gente, il popolo, ha altro a che fare, ha bisogno di altre risposte. Questa è la bandiera della Germania, questa è la bandiera dell'Europa. Io non voglio morire tedesco, o c'è l'Europa o c'è la Germania, altrimenti andando avanti così l'Europa diventa piccola, ma deve diventare piccola anche la Germania, la dobbiamo farla diventare più piccola, non può pretendere di comandare l'Europa, perché ci fu già uno che voleva prendersi l'Europa con il nazismo, non vogliamo adesso il nazismo economico e quindi secondo me bisogna cambiare un po' registro.